Buonasera, andrà ora in onda dai nostri studi di Torino una nuova puntata dello sceneggiato Io degradabile, scritto e interpretato da Willy Deiote. Il tema portante della puntata di oggi è il tempo e il rapporto dell'uomo con esso. Cercando di rispondere alla domanda sapissimo il tempo che resta, sapremo davvero usarlo meglio? A seguire la nostra rubrica di approfondimento su società e costume, ma prima le ultime notizie col telegiornale della sera. Buona serata! Grazie a tutti!